Sono Max, lavoro da molti anni come consulente e facilitatore in ambito organizzativo e sono al terzo anno della scuola di arte del processo che sto frequentando qua in Italia. Quando entro in una stanza con un team arrivo con una disposizione d'animo diversa. Mi sento di dare molta fiducia all'intelligenza individuale e collettiva. Nel mondo organizzativo ci sono spesso conflitti risolti o non espressi che nascondono in realtà potenziali importanti e soluzioni. Il process org permette di dare spazio a tutte le voci, di creare un contenitore sicuro, uno spazio sicuro dove le persone possono esprimere quello che pensano, esprimere le proprie idee, dire anche cose scomode se necessario e in quello spazio di consapevolezza spesso emergono spunti e soluzioni che altrimenti non emergerebbero e sono proprio quelle che ci servono. Il process org facilita questo, permette di fare questo, facilita il gruppo, facilita il team nell'uscire, nel far emergere soluzioni che sono proprio quelle che servono in quel momento e funzionano meglio.